Avete uno spazio all'aria aperta che desiderate sfruttare per creare un ambiente nuovo per i vostri momenti di relax? Con Pergo Casa Arquati potete creare un ambiente nuovo in modo semplice e rapido. Volete godervi lo spazio aperto a riparo dal sole o dalla pioggia? Offrire un angolo speciale ai clienti della vostra attività? Ogni spazio esterno può essere arricchito con il design innovativo e la praticità unica di Pergo Casa Arquati. Chiamate adesso per prenotare la visita gratuita e senza impegno di un consulente Arquati che vi aiuterà a scegliere la Pergola più adatta. Un prodotto di alta ingegneria made in Italy su misura che potrete acquistare con un finanziamento ai migliori tassi del mercato. E prima rata è a 60 giorni. In più progettazione, trasporto e montaggio compresi motore in omaggio, detrazione fiscale del 50%, 10 anni di garanzia. E la potrete arricchire con tutti gli optional che desiderate, luci LED, illuminazioni RGB, impianto audio Bluetooth e zazzariere, chiusure laterali avvolgibili o vetrate scorrevoli. Con l'ultima evoluzione del design e della tecnologia, le stagioni non contano più, perché in ogni momento dell'anno potrete godervi lo spazio esterno, creando il vostro clima ideale. Aggiungete alla vostra casa la stanza che avete sempre voluto, anche perché Pergola Casa Arquati aumenta sensibilmente il valore del vostro immobile. Chiamate adesso per avere tutte le informazioni, per conoscere un nuovo modo di vivere, perché Arquati è dove c'è il sole.